Mettete a letto i bambini, preparatevi, tenetevi forte a qualsiasi cosa, io mi tengo alla cosa più dura che ho Non posso farvela vedere Mettiamoci tutti gli occhiali tog life Dove sono i miei occhiali tog life? Que cazzo sono i miei occhiali tog life? Occhiali, occhiali, occhiali Che vita di merda ho perso gli occhiali tog life Ciao a tutti ragazzi, questo è Fruttore James Murray e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su Google, perché oggi andremo a fare un video molto molto nuovo Non è vero, hanno fatto tutti, sono arrivo tardi Non lo so, a me non mi piace arrivare subito A me non mi piace arrivare tardi Oggi siamo qui su Google per fare il video che molti componenti della crue hanno fatto Cioè Google Myself Cosa pensa il web di Murray? Quindi io direi di cominciare subito cercando XMurri E vediamo cosa appare con XMurri Perfetto, subito dal mio canale Murray, bestemmia facile Cioè tutte le canzoni di Murray con le bestemmiazze Tra l'altro questo video ha tipo raggiunto troppe visualizzazioni Vediamo quante cazzoni ha fatte 181.000 Porca troia, complimenti semaforo Complimenti anche per il nome del canale E te lo dice uno che si chiamava segnale disturbato Quindi prendilo come un complimento Poi un po' tutti i miei social Twitter che utilizzo solamente per vedere Valentina Nappi, Papa Francesco e adesso Lucia la Mozzarellona Il mio profilo GameKit Ah, c'è un articolo interessantissimo su TooMatchTV Sul perché io fossi senza partner Non ne, onestamente non conoscevo Questo articolo però è veramente interessante Perché ci sono praticamente tutti i bordelli Della mia partner Che fortunatamente ho ripreso Quindi grazie a tutti per il supporto Piccola parentesi Sono felicissimo Di aver risolto nel più breve tempo possibile Questo problema Direi adesso di cercare Un po' più nello specifico Andare un po' più nello specifico Scrivendo Murray Perfetto Murray è gay Ottimo Ottimo suggerimento Grazie Google Ma noi non abbiamo paura degli hater Noi non ce ne frega un cazzo Vogliamo cercare X Murray è gay Vediamo che cosa avete da dire contro di me Q-pop X Murray è gay Vut Ciao ragazzi Cuccio cazzi Grossi come palazzi Porca troia Matteo Montesi Che figata Che cosa Oddio 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 X Murray video Wap gang Vi prego ditemi che non è un porno Non è un porno Cosa cazzo è sta cosa Mi hanno sgubato i video E li mettono su sta cosa Figli di putta Vabbè Pubblicità merda X Murray videos You repeat Ragazzi Le minne Sono parte integrante Del mio canale Mi hanno messo Su un sito Di puttane A quanto pare O perlomeno Tutto un bel contorno Di puttane Ma questa è tutta una pubblicità Complimenti Mi piacciono le minne Vediamo invece Di cambiare Perché sapete Nella vita Una virgola Un accento Può cambiare tante cose Anziché E Mettiamo E X Murray è Jumpytec La sua ragazza È strano che siano a così breve distanza Ma potremmo anche fonderle insieme Perché sapete Jumpytec è Un fro X Murray e Jumpytec Vediamo cosa appare On the youtube On the website Vediamo su google immagini Cosa appare con X Murray e Jumpytec Ecco Due chiari esempi Di X Murray e Jumpytec Io sono Nessuno dei due Fortunatamente Qua un Murray Che si sta facendo diventare I capezzoli duri Mi sembra giusto X Murray e Jumpytec Sono due puttane Due travione Ma la cosa che mi fa più paura È che questa immagine È una preview Di Mike Shosha Quindi siamo Le soccole di Mike Shosha Cosa? Eccolo qua Il nostro caro Jumpytec Sempre con la bocca spalancata Sono curioso anche Di vedere Cosa cerca la gente Di X Murray E la sua ragazza Vabbè ovviamente La rischia il gusto Vari video X Murray Ecco svelato il mistero Oh porca troia Oddio Guardate che schifo Maronna mia Brutto come la morte Vi prego Devo venire un attimo Questo video Devo subito Capire Gesù Cristo 9 dicembre 2012 Carote e banane Cosa? Oh Ciao Ciao Io sono X Murray Ma questo probabilmente Già lo saprete Visto che siete sul mio canale Da quasi un anno E mi sono accorto Di una strana cosa Che cosa? A differenza di Di screen Madonna Fatto quei cartelloni Mamma mia Peggio di una telenovelas Vediamo di cercare Murri Su Google Immagini Perché sono curioso Di capire Anzi Di vedere Cosa spunta Su Google Immagini Se scrivo Murri Oh mio Dio Chi minchia sei? Chi è questa? Chi sono tutti questi? Perché non spunto come primo? Ma che cazzo vuoi tu da me? Ciao Serena Non avevo mai visto il tuo disegno Ma grazie a questo video Adesso l'ho visto Ringrazio a Gesù Per questa buona stella Ancora voi? Ma chi cazzo siete? Ok ragazzi Io direi che Questo primo episodio Di Google Myself Penso anche ultimo Possa finire qua Spero tantissimo Che vi sia piaciuto Se bollete Che bollete Che io cerchi Altre cose su Google Fatemelo sapere nei commenti Qualsiasi cosa Voi vogliate Io cerchi Ho azzeccato tutti i congiuntivi Assurdo Grazie per aver guardato questo video Fino alla fine E lasciate un bel pollice in su Perché a 10.000 like Arriva un nuovo video del genere E noi ci vediamo A un prossimo video Woooo